Ma guarda che c'è altroni, dove pensano di andare? A fare l'Italia, noi invece ormai facciamo solo inutili parato. Non ti lamentare Riccardo, ci siamo potuti dedicare le conquiste femminini piuttosto che militari. Ma non c'è andata granché bene. Meglio così, il soldato deve essere libero. Non si può dire che non ci ho provato. Ma Riccardo, ma Riccardo sei qua? Sei proprio tu! Quasi non ti si riconosce che si fa così, sembri un clochard. Stasera siamo a cena insieme, siamo a quartierà di qui a Napoli. Così potrai cambiarti, toglierti questo straccio e rimetterti finalmente la tua divisa. E questa è la mia divisa adesso. Non tornerai mica da questi cialtroni? Sono questi cialtroni che hanno fatto l'Italia. Bravo! 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 Bravo!